Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja Oggi parliamo di Tartarughe Ninja numero 65, dopo la sigla Teenage Mutant Ninja Turtles della IDW, edito in Italia da Panini Comics, numero 65 Dal titolo Uniti per Mutantown, che racchiude i fumetti statunitensi Teenage Mutant Ninja Turtles dal numero 119 al numero 122 Serie regolare, finalmente non spin-off vari, come ho detto nello scorso video Nello scorso video su quattro storie americane, ben tre, non erano della testata principale Ma dello spin-off su Genica, che questa divisione io davvero non la posso capire Mentre qua finalmente tutti i numeri sono sulla testata principale Continuo a dire che potevano mettere benissimo due numeri della serie regolare nel numero 64 E due numeri su Genica nel 64 E fare la stessa cosa anche qua nel 65 Avremmo sicuramente fruito meglio la storia principale E ci saremmo anche gustati un po' dello spin-off Questo disequilibrio non lo capisco, ma se qualcuno di Panini vuole spiegarmelo Qui sotto nei commenti sono aperto a capire le motivazioni tecniche per cui è stata fatta in questo modo Sì, ci sono Banalmente magari non era pronta la traduzione, che ne so, della storia principale Non lo so, però ecco, sta di fatto che le avrei gradite in modo più equilibrato i fumetti Questo numero, il numero 65, il numero di marzo, sono in ritardissimo Però ci tengo molto a parlare delle Tartaruga Ninja Tartaruga Ninja e Ghostbusters sicuramente sono gli argomenti a cui più sono affezionato nel mio canale Perché sono gli argomenti su cui più sono ferrato e mi piace che finalmente ne posso parlare Senza parlare di robe di 30 anni fa, ma di robe che stanno uscendo in questi mesi E quindi anche se arrivo un po' lungo, ne parlo lo stesso Il prossimo numero pare sia di maggio, quindi probabilmente ne parlerò a breve Allora, cosa c'è da dire mentre voi vi iscrivete al mio canale e attivate la campanella, eccetera, eccetera E condividete Cosa c'è da dire di questa storia? Sicuramente mi è piaciuta un po' più del numero scorso per i motivi che ho appena detto Cioè perché è la storia principale che finalmente va avanti Ma soprattutto si tocca di nuovo l'argomento delle elezioni di Mutantown Che nel non piacermi troppo questo continuo parlare di Mutantown Senza toccare l'esterno di New York Comunque la parte sulle elezioni, su Sally Pride Che vuole dare appunto giustizia a questo ghetto mutante Mi ha abbastanza intrigato Mi è piaciuto finalmente, parliamo di cose anche molto tamarre Mi è piaciuto finalmente rivedere le tartarughe ninja con la bandana addosso E non come una sciarpa o così Erano tutte in tenuta da combattimento Tranne Michelangelo perché non era lì appunto in veste da ninja Ma era lì come, diciamo, host del suo podcast Che ha appunto coinvolto tutta questa situazione Ma almeno le altre tre, anzi le altre quattro Erano con la bandana sugli occhi Quindi questa cosa almeno mi ha un po' soddisfatto Quello che invece non mi ha soddisfatto Che mi ha fatto molto arrabbiare all'inizio E che è un po' anche forse il problema principale di questa run Di questa nuova gestione delle tartarughe ninja Di questa testata È la parte in cui Raffaello va a trovare Casey Jones Di cui non si sapeva più nulla da quando c'è stata Mutant Town Si è visto proprio sporadicamente Addirittura hanno detto Che fa da quando si sono divisi i draghi viola Dopo che è scoppiata la bomba Io questa cosa manco la ricordo Magari è successa ma con le pubblicazioni Dovrei andarmi a riprendere tutto Però Io non ricordo di averla vista questa cosa Comunque non ne hanno mai parlato Il fatto che Casey Jones Che dovrebbe essere uno dei personaggi principali Non viene trattato a favore di personaggi sconosciuti Mutati in animali solo perché sì Secondo me è una sconfitta Perché ripeto Stiamo guardando Stiamo leggendo tartarughe ninja Non stiamo leggendo Beastars Non stiamo leggendo Topolino E quindi mi piace anche un'interazione con gli esseri umani Finalmente si va a ripescare Casey Jones dal cilindro E in una vignetta senza dire nulla Ma lo possiamo intuire dal numero di lattine di birra Che ci sono sparse per la casa Io ne ho contate 33 Casey Jones è totalmente ubriaco Completamente abbandonato a se stesso Ma non è quella la cosa che mi ha fatto arrabbiare Mi ha fatto arrabbiare che Raffaello Diciamo si sente un po' offeso Per il fatto che appunto lo trova conciato in questo stato In uno stato in cui non può neanche combattere E se ne va Se ne va perché ci sono cose più importanti da fare Ci sta Ci sono delle cose che hanno più urgenza Di un amico che deve smaltire la sbornia Però mi scoccia che non Non se ne sia preoccupato più di tanto Sapendo che il padre di Casey Jones Prima di tornare a essere il grande Han Era un alcolizzato che lo picchiava Questa cosa che Casey Jones Abbia iniziato anche lui a ubriacarsi Non viene secondo me trattata con la giusta sensibilità Spero che nel prossimo numero Questa cosa venga ripresa e trattata meglio Perché almeno Almeno Raffaello che dice A Michelangelo Invece di dire Lascia perdere Casey Jones Almeno di dire Casey Jones è nei guai Ma non ce ne possiamo occupare adesso Lo avrei gradito Poi ripeto Sono teenage Quindi anche Raffaello è ancora un adolescente Ancora un bambino Come viene detto più avanti nella storia Ci sta che non si prenda Che non capisca la gravità di cose Che potrebbero capire persone più grandi Però insomma Questa cosa sarebbe stato carino trattarla Invece è proprio così Hanno buttato via Casey Jones Tra l'altro sollevando anche Secondo me quello che potrebbe essere Una side story interessante E abbandonandola lì Giusto facendola un attimino annusare Spero che appunto venga sviluppata Che Casey stia attraversando un brutto periodo E grazie alle tartaruga ninja Grazie a Raffaello Esca da questo ipotetico tunnel Perché per carità Magari si è solo preso una sbronza Però ripeto C'erano 33 lattine di birra Sbarse nell'appartamento Non ce n'erano Non c'era un fusto da 6 lattine È quello che fa un po' strano E quindi appunto Mi piacerebbe che questa cosa Venisse trattata meglio Tutto molto improvviso In alcuni momenti del numero Mi è sembrato addirittura Che mi fossi perso degli spin off Che non hanno pubblicato in Italia La giornalista che era già entrata A rompere le scatole a Mutantown Per fare un servizio Rientra di nuovo Viene accolta dalle donnole E viene subito appunto colpita A una spalla Da uno dei mutanimali E viene appunto accolta Per poi così Cambiare totalmente carattere E entrare a far parte Della banda Degli amiconi buoni Così Senza che ci sia Un grande percorso Per poi appunto Questa è forse L'unica cosa carina Si collega al fatto Che Una delle tante Incarnazioni di Aprilonile È una giornalista E quindi Questa giornalista Che è venuta da fuori Insieme a Mona Lisa E insieme a Aprilonile Fonderanno appunto Un giornale Quindi questo è un richiamo All'April O'Neil Che oltre a essere Una scienziata Come nella Nella prima versione Delle tartaruga ninja È anche stata una giornalista Nella serie dell'87 Nel film degli anni 90 E così via E così via Vabbè Ripeto Sono un po' stanco Di vedere questa Miriade di animali A caso Combattere con le tartaruga ninja Spero che Questa cosa Finisca Perché per quanto L'argomento La metafora Del diverso Sia Sia stata trattata Più che bene La parte Nerd Del mio cervello Continua a dire Perché ci sono animali A caso Che il mutageno Non funziona così Come dicevo Nell'altro numero Finalmente Aprilonile Si è Suo malgrado Unita a Mutantown E non può uscire Quindi questo aumenta Un pochino La percentuale di persone umane All'interno E magari potremmo vedere Di nuovo Delle vecchie interazioni Umano-animale Come Come era nei primi numeri La parte finale Appunto dove c'è Appunto questo comizio Per eleggere Sally Pride Sogno erotico Fury Non ho mai avuto Un kink per i Fury Grazie a Sally Pride Ora ne ho uno Sally Pride Eletta A sindaco E appunto Ci sono degli attentati Ci sono addirittura Dei cecchini All'interno di Mutantown Una cosa assurda Cioè io mi aspettavo Una rivolta Una zuffa Ma c'erano addirittura Dei cecchini E per qualche ragione Questa cosa Di eliminare Sally Pride Non era nemmeno Ordita da vecchio diavolo Che in questo numero Pare che sia Non sia poi così stronzo Boh Pare che abbia Altri piani Ma non sia poi Così cattivo Perché lui È per la prosperità Dei mutanti E su questo è coerente A quello che ha sempre detto Però si sa che vecchio diavolo Tra quello che dice E quello che fa Non è che c'è poi Tutta sta coerenza Quindi Fa molto strano Pare che ci sia una persona Che abbia Come si dice Sia andato oltre Gli ordini di vecchio diavolo E si sia fatto giustizia Da solo Che è Man Ray Che Ma onestamente Non me lo aspettavo Assolutamente Che Una persona intelligente Come Man Ray Abbia addirittura Escogitato Un'esecuzione L'omicidio Di Sally Pride Che fortunatamente È stato sventato Dalle Dalle tartarughe ninja Però Mi sembra strano Che abbiano scelto Questa Questa strada E non abbiano Appunto Un fatto in modo Che sia stato Appunto O vecchio diavolo O magari qualcuno Da fuori Perché no La null Qualcuno a caso Non una persona interna Che addirittura Passa A ordire Una cosa del genere Una Un omicidio Verso Quella che è Fondamentalmente Una sua amica Forse qualcosa di più Molto molto Strano Mi è piaciuto Vedere invece Come Mona Lisa Abbia finalmente Lasciato Alle spalle Un po' Questo suo Senso Di 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 schifo Verso Le tartarughe ninja Ninja che non sono Umane Mutate Ma sono tartarughe Mutate verso Le umane Mi sembra di vedere Molta più Fratellanza Anche forse Qualcosina di più Sappiamo che In altre versioni Come il cartone Animato Nell'87 Anche quello Del 2012 Mona Lisa Ha avuto Tra virgolette Una storia Una storia D'affetto Una più che amicizia Con Raffaello Qua invece Raffaello Ha una Ormai lunga Tra virgolette Storia d'amore Adesso sembra quasi ufficiale Con Alopex E Mona Lisa Pare essere più Interessata A Donatello In un primo momento Poi appunto Ha avuto questo rigetto Perché pensava che Donatello venisse Da Da una precedente Forma umana Adesso sembra essere Un po' amica Con Michelangelo Con cui sta creando Questo podcast Però In questo numero C'è stato un momento In cui Mona Lisa E Raffaello Hanno avuto Un paio di scene insieme E io l'ho presa Come una bellissima citazione Alle vecchie Incarnazioni Dove Raffaello E Mona Lisa Appunto Avevano Hanno avuto Appunto Questo Rapporto Questa Liuzione D'amore Tutto lì Il rapporto Tra le donnole E vecchio diavolo Che Riescono a far Rinsavire Diciamo La rabbia Nei confronti Di quest'ultimo E forse la cosa Più tenera Che ho letto In questo numero Queste donnole Che non ho mai Apprezzato più di tanto Vedere che comunque Hanno ancora Un sentimento Di filiale Verso vecchio diavolo Che lo salvano Praticamente Da un linciaggio È stato molto bello Da vedere È stato molto bello Come alla fine La purezza Dei bambini Al di là Della specie A cui appartengono Salva la violenza Degli adulti Questa cosa Credo sia stata La cosa più bella Del numero Finale Dove appunto Vecchio diavolo Pare avere sempre Un altro piano Di riserva Sta in combutta Con Lindsay Che Non ricordo Se è una vecchia Collega Di Di Harold Laila Che è L'amico Scienziato Di Donatello Oppure Questa fosse Una vecchia Dipendente Della null Non me lo ricordo Sta di fatto Che Pare avere Un altro piano Con Lindsay Pare che questa Lindsay Stia creando Un mutaggino artificiale E questo appunto Può Giustificare Il fatto Quello che dicevo prima La mia preoccupazione Sul fatto che ogni Mutante In Mutantown Appartenga A una specie animale È a caso Però Quello che mi ha fatto Più stupore È che questa Lindsay Che è sempre stata Umana Ha una mano Non umana A tre dita A me ricorda Vagamente Quella che potrebbe essere Anche la mano Di un insetto Potrebbe essere Una versione IDW Di Baxter Stockman Mosca Dato che Baxter Stockman Non è mutato In questa versione Ma è il classico Baxter Stockman Dei fumetti originali Quindi può essere Che questa Lindsay Diventerà Una mosca mutante Non si sa Però sono Molto curioso Carino ambientare Una delle storie Ad Halloween Penso per smorzare Un po' La tensione Per vedere un attimino Le tartarughe ninja Vestite In modo un po' Pagliaccioso È stato È stato carino Hanno anche insignito Appunto Raffaello Di questo compito Di pattugliare Di diventare A tutti gli effetti Un poliziotto Di Mutant Town Una cosa che Ho gradito come citazione Al Night Watcher Del film Tartarughe ninja Del 2007 Quello in CGI Che forse è stata La parte più bella Di quel film Avere Raffaello Come Night Watcher Nonché il suo scontro Con Leonardo Però appunto Mi fa molto strano Che tra tutte Le tartarughe ninja Abbiano Si sia offerto Proprio Raffaello Che è quello che ha Dei problemi Di irascibilità Per fare ammenda Sui suoi problemi Di irascibilità E di impulso E di impulsività Fa un po' strano Fa un po' strano Che nessuno Abbia alzato un dito E abbia detto Raffaello Non ti offende Ma non sei proprio La persona più adatta Viceversa Leonardo Che poteva essere Molto più adatto Se non come capo Del clan splinter Quanto meno Come individuo Invece no Si è rifiutato Perché Leonardo Non vuole entrare Non vuole avere niente A che fare con queste cose Molto strano Cioè coerente Ai personaggi Però molto strano Che abbiano Che nessuno Abbia detto niente Che tutti abbiano detto Ah si va bene Lasciamolo fare a Raffaello Che ha infilzato Vecchio diavolo Con un sai È stata una scena Molto forte È stata una scena Molto disegnata Con molta furbizia Perché Fino a un momento prima E la pagina Ci nascondeva Cosa sarebbe successo dopo E io ho pensato Che Raffaello Si calmasse Finalmente Dopo 65 numeri Ragionasse Sfoglio la pagina E Raffaello Infilza vecchio diavolo Fortunatamente Non a morte Ma colpendolo Comunque Alla spalla In tutto questo Ho dimenticato di dire Una cosa Ovvero che Oroku sa Questo strano spettro Che a volte Appare Diventa tangibile Questa cosa Non la spiegheranno mai Lo so già Sta aiutando in segreto Le tartaruga ninja Infatti è Oroku Saki Che sarebbe Shredder L'ex Shredder È Oroku Saki Che ha Sventato Uno dei cecchini Perché Una delle tartaruga ninja Non era Abbastanza vicina Per poter Impedire Al cecchino Di operare E c'è stato Oroku Saki Ad aiutarlo Quindi siamo A un ennesimo avvistamento Dove qualcuno Nota questa figura Nell'ombra Che li aiuta Nessuno sa chi è Però appunto Sta un attimino Spianando la strada A quella che sarà Credo la Presentazione Ufficiale Le tartaruga Del suo grande Ritorno Dall'aldilà Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo numero Io grossomodo Apprezzo sempre Tutto ciò che leggo Sulle tartarughe ninja Però Sento un po' Il peso Di Di stagnante E Non vedo l'ora Soprattutto adesso Che ho sentito Che cambia Di nuovo La run La gestione Della testata Non vedo l'ora Di vedere Le nuove Storie Che dovrebbero Tornare Agli albori Agli antichi Sapori Come diceva Francesco Amadori E quindi Sono curioso Di leggere Questi ultimi Numeri Con la run Di Sophie Campbell Però appunto Con la consapevolezza Che poi appunto Si torni A qualcosa Di più semplice Quello che ho detto Io prima Il più grande problema Di questa testata Allo stato attuale È che ci sono Mille personaggi Ci sono Mille animali E non è più Interessante E si perdono Personaggi principali Interessantissimi Come April Casey Jones In favore appunto Di Mille mila Topi ragno Che magari Non hanno neanche Un nome E questa cosa È un vero peccato Io capisco Ci siano tante Side story Che si possono raccontare Ma ripeto Qui siamo Sulla testata Principale E preferirei vedere Dei personaggi Fissi Che interagiscono Tra loro Senza che se ne perdano Altri A cui ci siamo Affezionati Se non in questi Trent'anni Almeno in questi Sessanta numeri Chiusa parente Quindi spero In un ritorno Di April E di Casey E anche di Come si dice Anche di Angel Perché no Di Alopex E che vadano Un pochino via Tutti i vari Mutanti Di Mutantown Che qualcuno Li guarisca Che tornino umani E basta Ragazzi Basta O che abbiano Una loro testata Perché Bello Fino a un certo punto Niente Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Fino alla fine del video Con l'inchino Con il mutuo Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti